Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi Fortbyte numero 3 anche oggi in tempo reale con l'uscita del Fortbyte il video che vi spiega dove andare a prenderlo è molto semplice bisogna utilizzare l'emoji mili teteschio nel punto più ovest della mappa e il punto più ovest della mappa ragazzi si trova proprio dove si è piazzato quel merdacione che mi sta aspettando è dietro spiagge snob ragazzi come vedete eccolo qua il Fortbyte guarda che schifo che fa eccolo qua il Fortbyte riesco a scendere utilizzo l'emoji mili teteschio si attiva il Fortbyte lo vado a prendere ragazzi ed ecco che è fatta eeeh ce l'ho fatta noi ci vediamo fra poco in live ciao 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 ciao